Estra Energia e Acli assieme per tariffe agevolate. È stato infatti sottoscritto un accordo che permetterà agli iscritti dell'Associazione di ridurre i costi delle bollette di gas e energia elettrica. L'offerta prevede un prezzo dell'energia ripartito per fasce orarie variabile mensilmente e calcolato a partire dai valori del PUN, cioè del Prezzo Unico Nazionale dell'Energia Elettrica. Questo più che altro sottolinea l'attenzione che ha la nostra agenda per i territori. È un'azienda che nasce nei territori e è radicata nei territori e nella filosofia proprio di mantenere questo legame da dove è possibile e ormai da tempo su più manifestazioni l'azienda cerca di sostenere tutte le attività che possono servire a alleviare qualche problema per le famiglie, specialmente quando ci sono situazioni di disagio. L'attivazione del servizio erogato dal punto famiglia fa seguito alla convenzione stipulata con Estra e nasce dalla volontà di fornire un orientamento ai cittadini all'indomani del passaggio al mercato libero. È rivolto a tutti gli associati, principalmente anche ai circoli del sistema Acli, però è aperto anche agli utenti dei servizi che si rivolgono agli sportelli delle Acli che vogliono verificare la loro condizione con il gestore attuale e vedere se ci sono le condizioni per poter switchare con Estra. Quindi saranno verificate da parte dei nostri uffici queste possibilità in collaborazione con gli operatori di Estra. La convenzione è già attiva e avrà valore sino al 31 dicembre 2024. Gli sportelli Acli che svolgono servizi di patronato e di CAF, ma abbiamo anche lo sportello famiglia, tutti i cittadini che si rivolgono a questi sportelli verranno ovviamente presi in considerazione, dovranno portare ovviamente una bolletta dell'utenza attuale, quella che hanno in corso, e da quella verificare insieme all'operatore di Estra se le condizioni possono valer la pena per cambiare il gestore.